Leo, cosa stai facendo? Sto studiando! Ah, forse anche Gigi come te! Perché non provi a convincerlo? A mettersi anche lui sui libri? Non manca molto agli esami! Mamma, ci penso io! Gigi, che cosa stai facendo? Sto giocando! E l'esame? Leo, Tina mi ha dato informazioni segretissime in cambio di 500 carte Pokémon. Il tema d'esame sarà su Stumbleguys. Sì, ma Gigi, e la seconda prova? Informatica sarà su Poppy Playtime. E gli orali? Su Stumbleguys per Pokémon. La tua è una tattica rischiosa, Gigi. Che cosa farei se uscirà un tema su... Garden of Ban Ban.